Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video Oggi andiamo a fare l'unboxing di due prodotti che mi sono stati inviati dall'indie.it Un sito specializzato in prodotti, in dispositivi per la tecnologia, comunque per i computer Andate a visitare il loro sito per vedere i loro prodotti che sono veramente ottimi Oggi andiamo a fare l'unboxing di due loro prodotti Il mixer 8 canali, sempre ovviamente di l'indie E l'adattatore da Mini DisplayPort to HDMI per MacBook Pro 15 pollici Ovviamente questo adattatore è compatibile anche per MacBook Pro a 13 pollici, 17 MacBook Air 11 e 13 pollici, Mac Mini, iMac e Mac Pro Quindi comunque tutti i dispositivi che hanno una connettività Mini DisplayPort Che ovviamente non devono essere per forza Apple Procediamo con l'unboxing di questo pacco veramente enorme Ovviamente troviamo un imballaggio ottimo Quindi già un punto positivo per l'indie In quanto protegge appunto i prodotti che invia Andiamo appunto a estrarre il primo prodotto L'adattatore da Mini DisplayPort all'HDMI Che ho già testato, devo dire che mi sono trovato molto bene Ci tengo a dire che questo adattatore Oltre a trasferire il segnale in Full HD Dal computer al monitor esterno o alla televisione Trasferisce anche il segnale audio Che vi ricordo, non tutti i adattatori Hanno appunto la possibilità di trasferirsi a il segnale audio che video Quindi devo dire che per un adattatore di circa 20€ Comunque riesce a trasferire sia l'audio e video Quindi un adattatore completo Continuando con l'unboxing Abbiamo ora qui il mixer 8 canali di Lindy Devo dire un prodotto veramente buono Anche per il suo prezzo Veramente contenuto di soli 149€ Perché comunque per un mixer 8 canali Ok, abbiamo pochi canali Però comunque è veramente un prodotto ben fatto Anche i materiali utilizzati sono molto buoni E la struttura, comunque il dispositivo è molto leggero Quindi se vorremmo ad esempio trasportarlo Comunque portarlo con noi a una festa Non lo so, a un compleanno Dovremmo andare a fare un piccolo concerto Potremo trasportarlo con noi tranquillamente Andiamo quindi a fare l'unboxing del mixer Togliendo le protezioni ai lati E andando a togliere la plastica che lo protegge Oltre al mixer all'interno della confezione Troviamo anche l'alimentazione esterna Che dovremo andare a collegare ovviamente Nella parte posteriore del mixer Andiamo subito ad analizzare le componenti Con quelle connettività del mixer Partendo dalla parte posteriore E dall'alimentazione tripolare Con il pulsante di accensione E di spingimento del dispositivo Proseguendo possiamo notare la presenza Di ben otto canali Come ho accennato prima Di cui due sono mono Uno mono stereo Quindi funge anche da canale mono E gli altri quattro canali Sono canali stereo La principale differenza tra i canali mono e stereo È quella che nei canali mono Possiamo ad esempio collegare chitarre O bassi acustici Ovviamente anche chitarre elettriche Mentre nei canali stereo È preferibile collegare ad esempio pianole Ovviamente nella recensione Vi andrò a spiegare le varie differenze E poi andremo a fare anche delle prove Di test e così via Per ogni canale Troviamo ovviamente il regolatore del volume generale Troviamo anche il pane Che è ovviamente la regolazione del volume Destro e sinistro Quindi abbiamo una regolazione stereo del volume Abbiamo ovviamente anche il pulsante muto e solo Quindi muto per mettere in muto appunto il canale Quindi azzerare i dashbell E poi troviamo appunto dopo il pane Troviamo anche un equalizzatore dei alti maidi bassi Quindi abbiamo anche una dotazione abbastanza completa Troviamo anche il regolatore del gain Che appunto è una sorta di regolatore del volume Comunque andremo a vedere nello specifico Nella prossima recensione Riguardo la connettività abbiamo Abbiamo la connettività Canon Tripolare Abbiamo anche l'entrata jack da 6,3 mm L'entrata sempre jack da 6,3 mm Per gli effetti Quindi per chi volesse utilizzare un effetto tremorio Comunque un effetto al canale Dove ad esempio è collegata una chitarra Dovremo appunto collegare la chitarra ad esempio al primo canale E l'effetto al primo canale Per poi riprodurre nei monitor Comunque nelle casse Collegate ovviamente al mixer Sia il suono della chitarra sia l'effetto Ovviamente quando verrà attivato Sentiremo appunto l'effetto Oltre a queste connettività troviamo anche Ovviamente il regolatore generale del volume Se possiamo chiamarlo così Abbiamo anche le uscite per le cuffie Quindi gli strumenti collegati ai canali Saranno riprodotti Comunque il suono in uscita Verrà riprodotto anche nelle cuffie Ovviamente troviamo anche le uscite per i due modi Comunque per le due casse Troviamo anche i WRC A in e out I WRC A in entrata Ci consentono di collegare ad esempio Un altro mixer a questo mixer Comunque un altro dispositivo Dotato di WRC A Mentre l'RC A in uscita Ci consente di collegare questo mixer Ad esempio a un computer In questo caso il mio Mac Pro 15 pollici Per ad esempio registrare Comunque per registrare ad esempio I strumenti collegati ai canali Ovviamente non è il metodo migliore Per registrare ad esempio I microfoni comunque I strumenti collegati ai canali Perché comunque dovremmo utilizzare una scheda audio Però per chi volesse iniziare a registrare le prime tracce Può benissimo utilizzare anche Un mixer come questo Abbiamo anche altre connettività Che andremo a analizzare Che andremo a analizzare Con la recensione completa Che uscirà a breve Bene ragazzi per questo unboxing è tutto Ringrazio l'azienda Link.it Per avermi fornito questi due bellissimi prodotti Noi ci sentiamo presto Con una recensione completa del mixer Ma anche della datatore Da Mate DisplayPort a HDMI A presto da Angelo Ghelli Ringrazio l'azienda Link